Una maratona, devo dire, meno lunga del solito, nel senso che tutti i consiglieri, in particolare mi riferisco all'opposizione, hanno ben inteso che siamo dentro ad un bilancio severo, perché le regole che ci sono state imposte dal Parlamento sono regole severe, ma un bilancio che salva la qualità e la quantità dei servizi che già erogavamo nel 2017 per un alto contesto. Ha provato il bilancio, adesso lo dobbiamo attuare, ma soprattutto adesso come deve cominciare un'interlocuzione con le forze parlamentari e con il futuro governo. Noi riteniamo che il tema degli enti locali, tutti degli enti locali in predissesto, debba ritornare al centro dell'agenda politica perché non si può vivere solo di tagli e di costi ulteriori per la popolazione. Contemporaneamente noi riteniamo che ci siano comuni, fra questi il Comune di Napoli, che negli anni passati per una serie di commissariamente si ritrovano a dover pagare somme consistenti che non competono alle loro amministrazioni. È un tema serio, è un tema tecnico, è un tema politico. I territori hanno bisogno di respirare. Il nostro impegno per Napoli è esattamente questo, un respiro nuovo. Grazie. Grazie. Grazie.